bentornati a tutti questo è il secondo video che dedico a questa guida pratica diciamo all'investire in bot il primo video l'ho fatto settimana scossa vi invito a guardarlo perché li affrontiamo effettivamente lato pratico l'acquisto del bot sia sul mercato che in asta quindi è fondamentale secondo me sapere come si fa ad acquistare un bot per vedere questo video vi avevo promesso questa seconda parte il video sarà molto più lungo del solito non avrà molto editing quindi sarà un po più alla paolo coletti per così dire ed è un video un po più pratico ma più teorico comunque rispetto al precedente allora la scala di bot la scala di bot che mi avete spesso sentito nominare che della quale alla quale avevo già dedicato un video sul finire del 2022 video però che era abbastanza introduttivo non andavo troppo nel dettaglio questa volta la vedremo con un esempio pratico la vedremo da un punto di vista un pochino più concreto la scala di bot altro non è che un portafoglio di bot quindi titoli stati italiani zero coupon lo sapete a brevissima scalenza fino a massimo 12 mesi sapete benissimo cosa un bot mi auguro quindi vado oltre è la strategia della bond ladder quindi della scala obbligazionaria applicata a un portafoglio di bot di varia scadenza quindi cosa vuol dire vuol dire che la strategia della bond ladder per chi non la sapesse la bond ladder ha detto anche scala obbligazionaria è una strategia di investimento in singoli in singole obbligazioni che prevede di stabilire una durata minima una durata massima di costruire un portafoglio sulle varie scadenze sulle varie durate un portafoglio composto da singole obbligazioni e poi man mano che scadono le obbligazioni acquistarne delle altre con la scadenza massima della scala un esempio ve lo metto a schermo se noi abbiamo 4 bot 3 6 9 12 mesi quando scade passati i primi tre mesi della creazione della scala scada il primo bot a tre mesi andiamo ad acquistare quella somma e se non la dobbiamo spendere la reinvestiamo in un bot a 12 mesi la scala obbligazionaria è una strategia di investimento e poi chiudo la parentesi su questo su questo approccio gli investimenti è un'ottima strategia per difendersi dal rischio tasso quindi dal rischio che ci sia una variazione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e quindi un aumento dei rendimenti quindi chi ha usato una scala obbligazionaria con una duration media non troppo elevata si è difeso bene nel 2022 comunque l'obiettivo invece della scala obbligazionaria applicata ai bot quindi della scala di bot è quello di ottenere una remunerazione della liquidità ok una remunerazione delle somme praticamente a rischio zero di quali somme di quelle somme che non possiamo investire con orizzonti temporali troppo lunghi quindi che non possiamo investire in ottica pluriannale prima di proseguire vi ricordo che il miglior ringraziamento per ogni mio video è il mi piace e se vi va di continuare a seguirmi anche l'iscrizione al canale quindi vi chiedo se apprezzate il mio lavoro di farlo e proseguiamo andiamo nella slide successiva e vediamo un po' quello che è la determinazione della scala in termini di pecunia di soldi quindi si parla sempre in un modo ho sempre parlato in modo un po' astratto della scala ma io con questo video voglio che vi siano chiari tutti i passaggi logici e anche pratici della creazione di un portafoglio di questo tipo qui il concetto di base lo sapete è quello dello spending mensile l'ho già affrontato in un video sul fondo dell'emergenza che vi metto in descrizione a un mio video di qualche mese fa che proprio affronta questo tema la spesa mensile ora la spesa mensile consiste spesa media mensile consiste in quello che mediamente mi serve per vivere ogni mese a me o alla mia famiglia ok quindi è quello che io spendo al mese per vivere per uscire per pagare le bollette pagare supermercato e via dicendo per calcolare la spesa mensile possiamo usare due modi il primo è quello certosino quindi noi che utilizziamo ormai tutti le app della banca oppure il sito quindi l'home banking abbiamo quasi sempre una funzionalità che ci viene traccia delle spese faccio riferimento ad esempio all'app di inter san paolo che ha tutta la categoria di gestione spese ma ce ne sono low money map ad esempio di fineco ma ci sono tante e ormai tutte le app bancarie hanno la possibilità di tenere traccia delle spese questo ci permette effettivamente di vedere quanto spendiamo in un determinato periodo se poi già quella quella funzionalità lì ci dice qual è la nostra spesa media mensile meglio altrimenti prendiamo la spesa annuale la dividiamo per 12 oppure magari anche in quei casi in cui noi teniamo un bilancio personale che è l'ideale quindi un file excel banalissimo dove tracciamo ogni mese tutte le spese le entrate e ci facciamo un'idea la seconda secondo metodo per ridurre la spesa mensile è quello alla carlona come l'ho chiamato cioè io so mediamente quanto mi basta per vivere e vado senza far troppi calcoli vado su quella cifra determinato determinata la spesa media mensile io posso poi individuare due fattori fondamentali il primo è la liquidità da tenere sul conto corrente quindi quella liquidità che mi serve per vivere e che io devo avere liberamente spendibile che non posso investire ok tra parentesi ho messo da 1 a 6 mensilità di spesa in base alla vostra propensione al rischio io tendo a tenermi veramente poco 1 o 2 mesi di spending mensile liquido in conto corrente quindi se avete una famiglia magari con figli piccoli ovvio che tutte queste questi ragionamenti che stiamo per fare le fate con i numeri e con la prudenza maggiore quindi in questo caso ad esempio tenere da almeno 3 4 5 6 mesi di vita di spesa liquido in conto corrente è auspicabile poi dipende da una serie di fattori dipende da dalle entrate che avete se è uno stipendio oppure se è andata a fattura cioè dipende da una serie di fattori e dalla certezza che date tra l'altro a quella entrata poi c'è l'entità del fondo di emergenza che è anche qui lo spending mensile fondamentale perché il fondo d'emergenza per definizione ha un è finalizzato a far fronte alle spese impreviste e io non so per definizione non posso sapere l'entità delle spese appunto impreviste quindi lo spending mensile può essere un criterio razionale e metodico per capire l'entità del fondo d'emergenza e qui anche qui in base alla persona uno particolarmente audace può ottenere un fondo d'emergenza pari a 1 2 3 mesi di spese chi vuole invece un approccio più prudente può salire con i mesi con le mensilità quindi arrivare anche a 6 8 10 12 o anche di più soprattutto se avete magari una famiglia con tanti figli o comunque se volete stare più tranquilli poi qual è una volta determinato questo quindi una volta determinato il fondo d'emergenza abbiamo la possibilità di determinare l'entità della scala di bot per determinare questa entità per determinare il capitale che possiamo distribuire in bot noi teniamo conto di due componenti il fondo d'emergenza che l'abbiamo appena visto quindi le spese impreviste e poi le spese previste e straordinarie dico divido queste componenti perché le spese previste straordinarie non fanno per parte dello spending medio mensile ok sono spese che io prevedo che farò per scelta di solito ma che so che non faccio ogni anno ad esempio se voglio fare un viaggio a new york se voglio cambiare auto se voglio cambiare cellulare non sono cose che fate tutti gli anni a meno che non siete veramente particolarmente benestanti bene ma se dobbiamo fare una spesa prevista e straordinaria rispetto alla nostra ordinaria vita va incluso in questo calcolo ok se tra sei mesi so che devo cambiare tv deve essere incluso in questo calcolo quel valore quella entità di spesa mi da un budget quindi così determiniamo la nostra scala in questo modo ora determina se ci fate caso apre una parentesi se ci fate caso e se seguite anche paolo coletti noterete che in questa slide abbiamo praticamente visto tre pilastri su quattro lui utilizza i quattro pilastri dell'investimento comunque della finanza personale che va benissimo io ne intravedo piuttosto tre che quattro ma va bene utilizzando i quattro pilastri di coletti qui vediamo praticamente ne abbiamo previsti tre o meglio due e mezzo perché la liquidità da tenere sul conto corrente il primo l'entità del fondo d'emergenza secondo le spese previste sono il terzo certo che nel terzo pilastro di coletti l'orizzonte temporale non è a 12 mesi perché io qua parlo di pal di spese previste straordinarie ovviamente da farsi entro 12 mesi visto che parliamo di una scala di bot e la scadenza massima di 12 mesi nel terzo pilastro di coletti le spese previste possono essere anche in ottica plurianale tra tre anni voglio comprare casa quindi qua diciamo che vediamo due pilastri e mezzo passiamo alla slide successiva qui abbiamo determinato l'entità ok bene allora partite dal presupposto che le delle cifre per fare un esempio le vedremo dopo tra pochissimo anzi ora dobbiamo iniziare a costruire la nostra scala finora abbiamo capito quanto spendiamo ogni mese abbiamo capito quanto dobbiamo ottenere liquidi nel conto corrente abbiamo capito soprattutto quando è qual è l'entità della nostra scala qual è l'importo che possiamo destinare a questa tipologia di investimento allora ora dobbiamo costruirla prima di costruirla dobbiamo però individuare i criteri perché purtroppo rendere pratico questo video è molto difficile perché ci sono tante variabili che cambiano da persona a persona è molto personale scegliere se tenere un fondo d'emergenza che preveda sei mensilità di spesa o 12 quindi ci sono delle variabili che voi definirete nel vostro processo decisionale che io non posso prevedere qui in anticipo devo stabilire dei criteri che vadano bene per tutti quindi sto cercando di rendere il video il più pratico possibile conscio del fatto che non può nemmeno prescindere totalmente dalla teoria anzi deve avere per forza una vena teorica comunque dobbiamo tenere conto di tre fattori che incidono sulla nostra scala il costo commissionale che vedremo tra pochissimo l'entità della scala quindi il capitale che destiniamo alla scala di bot e la voglia di fare parto da quest'ultimo se io non ho voglia di di star lì ogni tot mesi a comprarmi di guardare qual è il bot che devo comprare e comprarmelo ok se non ho voglia di star lì a seguire il mio portafoglio di bot non mi ci metto neanche a fare una scala di bot mi faccio un conto deposito un etf monetario vedremo alla fine queste alternative e va benissimo ok quindi bisogna avere la voglia di fare la voglia di fare può incidere anche sulla struttura della scala una struttura a 3 4 10 o 12 bot dipende anche dalla voglia che abbiamo di lavorare in questo senso poi l'entità della scala ovviamente il capitale ha un'incidenza perché se io ho un capitale ristretto non potrò fare una struttura a 12 bot farò una struttura a 3 bot e ancora legato al concetto di entità della scala c'è anche il costo mensile cioè scusate il costo commissionale quanto pago io per acquistare un bot quindi la scala va costruita secondo me con un criterio principe il costo l'incidenza del costo che sopporto per costruire questa scala non deve superare un certo limite che io definisco in via personale qui ho messo un esempio io non costruisco una scala se mi costa più di un 0,3 per cento ok anno ovviamente ovviamente più basso è questo valore questa incidenza meglio è per me c'è maggior rendimento mi trattengo la domanda da porsi quindi è che commissioni applica mia banca ogni broker a questa operazione all'acquisto di un bot di solito i sistemi commissionali sono di tre tipi fissi proporzionali puri o proporzionali misti quindi con i commissionali fissi ad esempio fineco io se sono over 30 pago 19 euro a prescindere dall'importo e acquisto un bot chiaro che quei 19 euro se io pago o compro 2000 euro di bot hanno un'incidenza mostruosa se io compro 100.000 euro di bot hanno un'incidenza minima mentre sui sistemi proporzionali puri che vanno bene per le per le somme piccole per i capitali piccoli ma vanno male per i capitali medi o grandi perché sono appunto proporzionali pago uno 0 20 per cento senza alcuna quota fissa ad esempio quindi su 2000 euro pago 2 euro perfetto su 100.000 euro pago 200 euro male ok i proporzionali misti su una via di mezzo hanno una quota fissa solitamente di pochissimi euro una quota variabile abbastanza contenuta esempio 3 euro fissi più uno 0 15 per cento facciamo appunto un esempio supponiamo che la mia banca applichi 5 euro io so che molti usano diretta come broker quindi mi pare che li costi 5 euro questo era un titolo ora se io acquisto cioè se io devo fare questa operazione costruzione a scala di bot pagando 5 euro so che non potrò mai fare un investimento da 1000 euro perché l'incidenza sarebbe di un 0,5 per cento ed eccede lo 0 30 di esempio di criterio che ponevo io prima quindi in questo caso dovrò almeno spendere 2000 euro per ogni bot così l'incidenza non 0 25 poi è chiaro che più alta la somma investita con un tarifario fisso più bassa l'incidenza in termini percentuali io preferisco i tarifari fissi così che io so posso gestirmi quindi so che per far impattare meno il meno possibile il costo devo investire certe somme è più prevedibile più controllabile la cosa quindi passaggio ulteriore è quello di determinare la struttura della scala qui veramente anche qui è personale io prediligo almeno la scala 4 però la scala a 3 può andare benissimo cosa vuol dire vuol dire che in base al criterio del costo limite che devo sempre tenere a mente posso decidere di frazionare la mia scala in 3 o più bot ok quindi ad esempio la struttura a 3 prevede un bot a 6 9 12 mesi ma lo decidete voi potete farne anche una 3 9 e 12 mesi o 3 6 9 mesi quindi decidete voi la struttura a 4 per secondo me è quello il giusto compromesso tra flessibilità e costi bassi 3 ad esempio 4 bot 1 a 3 una 6 una 9 una 12 mesi poi c'è la struttura mensile che è disponibile solo per una nicchia perché vorrebbe dire avere condizioni molto buone di acquisto soprattutto un'entità della scala di almeno diverse decine di migliaia di euro o anche centinaia di migliaia di euro o più ok quindi questi sono i criteri utilizzati per determinare la struttura della scala passiamo alla slide successiva allora la costruzione molto semplice una volta che ho determinato quanta liquidità tenere in conto corrente quanta liquidità invece investire in una scala di bot e una volta decisa la struttura devo solo selezionare singoli bot ed effettuare l'acquisto fine poi vi rimando al mio video precedente per capire come fare operativamente a comprare un bot mi raccomando non posso ripeterlo qui altrimenti viene un video di un'ora ok guardate il mio video precedente ve lo metto ovviamente in descrizione facciamo un esempio pratico e qui parliamo di giorgio ho preso un nome a caso non è mister rip giorgio e la sua famiglia hanno una spesa media mensile di 2500 euro quindi abbiamo la certezza che non è mister rip e ha da tempo programmato due spese previste tra sei mesi vuole cambiare la lavatrice perché quella che ha non va molto bene ma per ora va e quindi stima di spendere 600 euro poi vuole fare un viaggio a new york tra nove mesi con i figli e la moglie spesa stimata 5.400 euro ok non soffermatevi sul quanto possa essere realistica la cifra è un esempio giusto per spiegarci giorgio ha due figli piccoli quindi deve gestire il proprio capitale in modo prudente quindi non sarà mai una persona che utilizza un fondo d'emergenza risicato o che tiene poca liquidità nel conto ok ecco perché l'ho specificato questo giorgio poi ha contattato la sua banca e ha scoperto che paga 10 euro per ogni operazione di acquisto su titoli di stato quindi si è informato sulla commissione che paga perché perché è fondamentale come diciamo nella slide precedente per tenere sotto controllo il criterio del costo limite in base a questi presupposti possiamo già determinare l'entità della scala di giorgio che è pari a 6.000 euro di spese programmate ai quali vanno sommati altri 15.000 euro di fondo d'emergenza perché giorgio è sì prudente ma non troppo è deciso quindi di adottare il criterio della spesa mensile moltiplicata per 6 quindi giorgio ha una scala di bot di 21.000 euro totali ora è anche una persona molto attenta ai costi e per limitare più possibile l'impatto che questi 10 euro hanno su ogni singolo acquisto di bot ha deciso di strutturare il portafoglio in tre bot quindi da scala a tre per limitare appunto più possibile l'impatto commissionale ora la sua scala sarà così composta e qui vi ricordo ancora una volta per gli ai per capire come trovare gli aisine tutto video precedente in cui faccio vedere proprio il passaggio comunque ha deciso di mettere 6.000 euro sul bot scadenza aprile 2024 quindi siamo sul bot a sei mesi 10.000 euro sul bot scadenza luglio 2024 e questo è il bot a nove mesi e 5.000 euro su quello a 12 mesi che scade ottobre 2024 ok perché questa differenza di importi perché giorgio sa che ad aprile deve cambiare la lavatrice e che a luglio va a new york mi sa che è molto calda new york a luglio quindi giorgio probabilmente non soffre il caldo però ci va a luglio ora il come dividere il capitale che voglio destinare la scala sui singoli bot è personale posso magari concentrarmi di più sulle scadenze più strette perché voglio magari so voglio più tranquillità quindi prediligo un'entrata anticipata del capitale piuttosto che un rendimento elevato anche se ormai siamo lì come rendimento posso però anche andare a decidere cosa di concentrarmi più sulle scadenze lunghe apro una parentesi sulla tematica costi quindi ripeto il personale in questo caso scusate concludo ritorno un attimo e concludo si mette di più sul bot di luglio perché a luglio alla spesa new york quindi si concentra maggiormente a luglio ma è personale parentesi sui costi più vi concentrate su scadenze piccole maggiore sarà l'impatto commissionale perché vi ricordo che se voi prendete un bot a sei mesi e poi tra sei mesi con la liquidità dovrete nuovamente decidere cosa farne e quindi dovrete sostenere nuovamente l'acquisto di un bot fate molta attenzione alla tematica dei costi ok perché è fondamentale tenerla sotto controllo altrimenti è più conveniente vedremo fare cosa tra poco ovvero altrimenti mi scopro subito passiamo alle conclusioni siamo ai resoconti ci siamo alla fine del nostro esempio giorgio è stato bravo secondo me giorgio è stato bravo perché ha bloccato un rendimento anno medio lordo del 3,9 per cento inserì hai creato una scala con tre bot ha pagato 30 euro di commissione il rendimento anno netto del 3 29 togliamo cinque bollo abbiamo un 3 0 9 ora questo calcolo in realtà non è corretto e sono conscio di questo per quello ve lo dico anche a voce perché potrei modificarlo qui in tempo reale ma lo dico a voce perché è molto difficile riuscire a prevedere l'impatto commissionale in modo come dire teorico che vada bene per tutti dipende da persona a persona perché giorgio tra sei mesi avrà già il primo bot che scade e tra nove mesi ne avrà un altro ancora quindi dovrà tirare fuori tra sei mesi 10 euro per questo robot successivo e tra altri nove mesi altri 10 euro quindi annualmente annualmente le commissioni pagate non sono 30 sono un pochino di più ho voluto un po semplificare ok ma se noi andassimo comunque a considerare magari che in quell'anno deve andare a qui non lo posso più modificare pagare ulteriori 20 euro o che verrebbe un commissioni pagate di 50 euro quindi siamo su uno 0 20 anno circa fosse un pochino di meno ve lo dico a voce ve lo segnalo fate attenzione perché è un ragionamento da considerare ora gestendo così la liquidità giorgio non è stato pigro quindi ha visto questo video ha creato la sua scala invece che lasciare quella liquidità in conto corrente ha cercato comunque di investire in modo sicuro per avere una remunerazione tale che praticamente con quel capitale si è ripagato in un anno la lavatrice e in più gli è rimasto sono rimasti anche i soldi per pagare un gelato alla famiglia intera quindi bravo giorgio bravo giorgio ci sono tantissimi italiani che tendono a tenere tantissima liquidità ferma nei conti correnti se la gestissero così vi garantisco che l'italia sarebbe un po quello ancora più ricco ok quali sono le alternative quindi la domanda la domanda giorgio avrebbe potuto fare meglio allora le alternative le abbiamo e ci sono i conti deposito che hanno rendimenti maggiori ad oggi però attenzione che sono molto meno flessibili perché i conti deposito liberi che sono quelli più flessibili hanno rendimenti più bassi complice anche una tassazione più penalizzante siamo al 26 per cento e non al 12,5 per cento come nei titoli di stato come nel caso di botte mentre quelli svincolabili se io svincolo prima una penalizzazione del tasso mostruosa e quelli vincolati non posso svincolare quindi ho veramente tanti limiti sui conti deposito io non utilizzerei i conti deposito per gestire un fondo d'emergenza posso usare un conto deposito per gestire le spese previste certo se so che tra sei mesi mi servono quelle somme prima faccio un conto deposito a sei mesi e probabilmente riesco a battere il rendimento effettivo dei botte ok poi abbiamo i dtf monetari che secondo me sono l'unica vera alternativa alla scala di botte perché hanno la stessa flessibilità e più o meno lo stesso rendimento hanno solo un impatto in più che la commissione di vendita perché perché quando io con il tf monetario voglio riscattare un po di capitale devo per forza pagare una commissione di vendita visto che non c'è una data di scadenza come invece nei botte ora i rendimenti attesi quindi come dicevo poco fa sono più o meno simili tra un portafoglio botte nel tf monetario siamo su un 3 9 circa 4 per cento e l'incidenza fiscale è pressoché identica se usiamo i tf monetari che hanno una tassazione agevolata quindi che utilizzano titoli di stato come ad esempio xeon ok quindi questo è un po il discorso della scala di botte prima di salutarci vi segnalo un'altra cosa è un ragionamento che volevo fare prima non mi sono indicato e nel nelle scale di botte tanto più è frazionata la scala tanto più alto il costo è vero quindi devo fare attenzione a quello ma tanto più è frazionata tanto maggiore la flessibilità perché se io ho un bot che mi scada ogni due mesi ad esempio ogni mese praticamente io ho entrato ho quelle somme che mi rientrano con una frequenza molto elevata e quindi in caso di spese impreviste se riesco posso anche aspettare la scadenza del prossimo botte e non devo pagare la commissione di vendita viceversa invece quando io uso una struttura come quella di giorgio a tre botte la flessibilità è inferiore perché giorgio se fa questa scala e la crea oggi e tra due mesi ha bisogno di disinvestire deve pagare una commissione di vendita che va a ridurre la convenienza dell'operazione quindi ecco perché diciamo che è molto personale la cosa perché dipende dal capitale che ho dipende da le commissioni che la mia banca mi applica ma se ho la possibilità di frazionare il più possibile una scala meglio farlo per evitare questo problema comunque seguitemi sui social abbiamo da poco creato le pagine abbiamo rifatto la pagina facebook abbiamo creato la pagina instagram abbiamo creato la pagina tiktok ci seguono tipo 20 25 persone per ora quindi se vi va di limpolparci anche lì come come followers potete farlo seguiteci sui social perché i contenuti sono un po più immediati diversi a quelli che siete abituati a vedere su youtube e quindi sono più carini ecco più leggeri poi vi ricordo come sempre se video vi è stato utile lasciate mi piace iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi il format è molto diverso dal solito fatemi sapere cosa ne pensate lo scrivete nei commenti come al solito cercherò di rispondere a tutti se avete curiosità o domande o chiarimenti o critiche benvenga scrivete sotto nei commenti io ho cercato di rimanere il più semplice possibile in questo video grazie per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima